Bella a tutti i Fortniteers, benvenuti su LeonTube, eccoci in questo video per andare a fare una mappa dove poter racimolare tanti XP per andare a fare il secondo livello delle mappe creatori e delle missioni spezza la maledizione, questo è il codice da mettere 407785991691 lettera V44 senza gli spazi ovviamente il trattino potete anche evitarlo ve lo mette lui da solo andiamo in ok eccola qua e questa è la mappa che dobbiamo andare a giocare e mettiamo come sempre partita privata ed entriamo in gioco quindi ci rivediamo quando è attiva la mappa allora eccoci qui nella mappa come prima cosa ci giriamo dietro e andiamo a stoppare questo pulsante dopodiché andiamo a cercare tra le varie armi ok il rampino ok facciamo tutto il giro partiamo da qua vediamo un po' dov'è eccolo qua prendiamo i due rampini questo e questo e poi andiamo a prendere anche delle armi qui abbiamo una vasta scelta e andiamo a prendere queste due qua questa e questa dopodiché ok arrivati qui ci dirigiamo allora abbiamo due parti no ok abbiamo solo questa parte qua perfetta andiamo a vedere un attimo sotto perché oh vabbè ok dobbiamo usare ok siamo arrivati lo stesso che è perfetto qui teniamo conto che abbiamo le tre statue questa è quella dello spawn qui a destra ce n'è un'altra che per ora non dobbiamo utilizzare che va nell'uno contro uno mentre questa di qua riguarda è quella che dobbiamo tenere in considerazione quella quindi di sinistra che riguarda il vault la valuta e quindi entriamo dentro andiamo in questa stanza che è qua giù in fondo qui mancano ancora 56 minuti possiamo entrare dentro ma eccoci qua ci rimanda dietro allora quindi invece che entrarci dietro dobbiamo salire sopra a quel a dovere il bottone diciamo ok andiamo subito da questa parte entriamo di nuovo dentro qui ricordiamoci in vault siamo qui dobbiamo salire qua sopra e fare un emote e noi facciamo questa qua va bene qualsiasi emot a questo punto ci giriamo di qua andiamo nella sinistra retro e dovremmo trovare eccolo qua un pulsantino in cui andiamo a interagire e ci troviamo dentro quest'isola ma purtroppo in quest'isola dobbiamo aspettare che passino questi 900 secondi quindi dobbiamo aspettare il tempo dopo di che andremo avremo la possibilità di mettere un codice intanto vedete abbiamo iniziato a fare un po di punti esperienza anche se questi ovviamente sono pochissimi e non non contano quindi ora aspettiamo un attimo che passa il tempo allora in questo momento siamo trappolati qui quindi potete aspettare andare a fare altro non si può uscire da questa mappa iniziamo a fare comunque qualche piccolo xp però non è possibile uscire ma non sarà per sempre dovremmo aspettare lo scadere di questi minuti ora mancano 11 minuti quindi ci rivedremo tra poco quando sarà arrivato a zero quando sarà arrivato a zero Grazie a tutti. 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 a tutti.